ciao a tutti ragazzi eccomi qua c'è un freddo boia si sta congelando il sole fa timidamente capolino tra la nebbia ma devo dire che è veramente molto freddo tra l'altro fortunatamente è domenica c'è una visibilità ridottissima le macchine sediovole sono praticamente scarse questo mi permette di pedalare in sicurezza anche se mi sono dimenticato i segnalatori anteriori e posteriori vabbè ragazzi questo è un altro discorso dunque si è parlato nell'ultimo video di come riparare su strada mentre siamo in allenamento o in gara una foratura oggi vi parlo di come si può ripristinare la bicicletta come si fa un check up durante una caduta dunque può capitare a tutti di cadere non vi preoccupate non vi dovrete sentire dei ciclisti sporchi o dei ciclisti inadatti perché chi si allena chi fa molto sport prima o poi è sintomatico fare un incidente per mille motivi si può cadere per distrazione perché ci ha attraversato un gatto perché ci cade un meteorite sulla testa insomma voi ragazzi non vi preoccupate una volta caduti la prima cosa che dovete fare è assicurarvi di stare bene quindi si cerca di capire se abbiamo coscienza di quello che abbiamo subito cioè cerchiamo di capire se abbiamo coscienza di noi mi raccomando è sempre fondamentale indossare il casco perché se si batte la testa e ci spengiamo poi sono guai quindi cerchiamo di capire se stiamo bene tocchiamo gambe braccia insomma le articolazioni se abbiamo tutto a posto e se niente è rotto andiamo a vedere che cosa è successo alla nostra bicicletta se avete visto il tour de france o giro d'italia molti ciclisti quando cadono a son di calci e di cazzotti addrizzano il sellino o il manubrio beh voi non fatelo perché se avete anche dei pezzi in carbonio è molto facile che si spacchi qualsiasi cosa che il sellino voli via al primo colpo che lo sterzo si pieghi in modo irreparabile quindi non lo fate abbiate però la pazienza di prendere dalla vostra falsa borraccia un multi tool trovate tutti i link in descrizione di questo piccolo accessorio e con le apposite attrezzi le apposite chiavine o brucole andate a regolare di conseguenza sellino e manubrio attenzione muovetelo sempre con delicatezza in particolare se sono pezzi di carbonio che possono aver subito anche delle cricche quindi attenzione regolatelo e stringetelo con molta delicatezza una volta che sellino e manubrio sono diciamo così in asse occupiamoci del resto andiamo a vedere ad esempio i pedali è difficile che si rompano ma semmai si potrebbero leggermente torcere quindi andiamo a vedere se pedali pedivelle guarnitura sono in asse è molto semplice si da giro con la mano alla pedivella e tutto dovrebbe tornare a posto a questo punto come dicevo scusate si cappotta la bicicletta si mette sella sulla sella poggiata sulla sella sul manubrio e andiamo a vedere le ruote giriamo le ruote le guardiamo da dietro da davanti e controlliamo se sono in asse se sono in asse e se non fanno rumori particolarmente strani diciamo e se frenano siamo pronti per ripartire nel caso in cui la ruota sbacchetti o strusci poggi diciamo su il carro posteriore dobbiamo in qualche modo rimetterla in asse come si fa si allenta lo sgancio rapido e la si sistema dopodiché si ristringe giriamo nuovamente vediamo se i freni sono ben allineati se la ruota gira senza toccare sul telaio a questo punto una volta che tutto è a posto prima di partire prendiamo la bicicletta e la battiamo molto delicatamente a terra questo serve per vedere se ci sono altri pezzi che si sono allentati o rotti in questo caso se è tutto a posto possiamo partire facendo ovviamente attenzione a tutti i rumorini tutte le piccole malfatture che potrebbero capitare nel nostro rientra a casa comunque diciamo se avete fatto queste operazioni e non ci sono grandi interventi da fare la bicicletta non è da buttare ma magari il consiglio che vi do è quello di portarla subito immediatamente da un buon meccanico bene ragazzi io torno a casa perché sto congelando noi ci vediamo al prossimo video buon allenamento e come sempre ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao